Un obiettivo è un desiderio, un sogno, ma con una scadenza. C'è un qualcosa che non è più vorrei fare questa cosa qua, ma voglio farla. Ho deciso che faccio questa cosa qui e gli ho dato veramente una scadenza. Ho detto voglio farla, entro il. Quindi ho trasformato in un qualcosa di concreto, in un percorso concreto, un qualcosa che mi piacerebbe realizzare. Perché è importante avere degli obiettivi? Perché se non sappiamo dove stiamo andando, come dicevamo, è molto difficile poter andare in un posto che ci piace. Se ci facciamo portare via dal vento, immaginate una persona che, un marinaio che con la sua nave va in mare e dice dove vai? Non lo so. Dove mi tira il vento e la corrente vado. Siamo abbastanza certi che se si fa veramente tirare dal vento e dalla corrente, facilmente si schianterà sugli scogli. E tristemente è quello che accade a buona parte delle persone, che magari conducono una vita intera, arrivano alla fine della loro vita e non sono arrivati dove gli sarebbe piaciuto arrivare. Qualsiasi persona che abbia ottenuto grossi risultati, qualsiasi persona di grande successo in quello che fa, in qualsiasi attività, ha come caratteristica principale quella di sapere esattamente che cosa vuole. Cioè sa dove sta andando, sa che cosa vuole. Se noi sappiamo ciò che non vogliamo, non significa automaticamente sapere che cosa vogliamo. Quindi è come se io andassi in quella direzione fuggendo da qualcosa e cammino, però costantemente girato alle spalle e vado là perché sto andando via da un determinato posto o da un determinata persona o situazione, piuttosto che andare verso qualcosa, muovermi verso e so dove sto andando e ho una direzione ben precisa. Ovviamente c'è un'energia totalmente differente, ovviamente ci sono dei risultati totalmente differenti. Un obiettivo deve essere specifico, misurabile, possibilmente con una scadenza. Quanto voglio dimagrire? Entro quando? Quindi avere ben preciso. Ovviamente come dicevamo è espresso in positivo. Quindi non voglio più questo, ne abbiamo già parlato poco fa, ma voglio ottenere questo risultato per il processo mentale di cui parlavamo che la nostra mente tende a realizzare ciò su cui si focalizza. L'obiettivo in sé spesso non è l'obiettivo che ci dà motivazione, ma è lo scopo che sta dietro a quell'obiettivo, cioè che cosa significa per noi raggiungere quel risultato. Cosa vuol dire per noi? Che cosa ci dà da un punto di vista emozionale? Cosa cambia la nostra vita? Come ci farà stare raggiungere quel risultato? Le persone si muovono per emozioni, ognuno di noi si muove per emozioni. Sono le emozioni che ci fanno decidere di fare un qualcosa, di prendere una strada, di intraprendere una certa impresa. L'emozione che nella nostra testa in qualche modo proveremo, le sensazioni che vivremo. Quindi a ogni obiettivo è sempre legato del piacere all'idea di raggiungerlo e del dolore all'idea di non raggiungerlo. Questa è l'essenza della motivazione. Viviamo in un mondo dove le persone credono che saranno felici nei momenti in cui arriveranno lì. O faranno quella cosa, otterranno quel risultato, avranno quella quantità di soldi. Ed è tristissimo quando ottieni quella cosa, hai quel risultato, hai quella quantità di soldi e ti rendi conto che non è quello che ti rende felice. Quindi se vogliamo un qualcosa perché ci fa stare bene, bello, ma godiamocelo mentre ci muoviamo verso. Questo non significa all'opposto però quello di poi darsi troppe scuse. Quando, vabbè, avevo detto che arrivavo lì, però dai, mi sono divertito, è andata bene comunque, pazienza, lo farò più avanti. Per carità è una buona filosofia di vita, ma se fai sempre questo troppo, alla fine non ottieni mai nulla di reale. Caratteristiche delle persone che ottengono i risultati, quelli tosti con la R maiuscola, numero uno, sanno quello che vogliono. Numero due, sanno perché lo vogliono. Questa cosa per loro ha un significato, ha un valore, vale la pena impegnarsi. È un vero motivo che spinge all'azione, quindi da vera e reale motivazione. Ma numero tre, cosa altrettanto importante, hanno un piano d'azione. Cioè sanno cosa devono fare per realizzare quel risultato. grazie a tutti. grazie a tutti.